Oggi sono stato in campo con i ragazzi, mi sono trovato bene, contro un avversario difficile, siamo riusciti a portare il risultato a casa e sono contento. Abbiamo visto un particolare affiatamento con Roberti, soprattutto in occasione della prima rete, insomma con lui ti trovi molto bene. Sì, sì, in settimana ne parliamo tanto. Quando ti trovi con un compagno che è un animale come lui lì davanti e io che ho altre potenzialità da approfittare il massimo. Ne abbiamo parlato tante volte durante la settimana prima che iniziavo a giocare e così è andata. Possiamo dire che l'obiettivo di Tuncara è quello di rilanciarsi qui ad Avezzano? Di rilanciare? Già, sempre ne parliamo di questo, però io sono venuto qua a dare me stesso e dimostrare le potenzialità che ho e basta. A quanto il primo gol? Ci lavoreremo, stiamo lavorando per questo. Sono il primo che non vedo ora di realizzarlo, insomma. Nella rete divorata del 3-1 lì potevi fare forse meglio? Sì, dopo che ho tirato ho detto che potevo fare qualcosa di meglio, però questo è un attaccante che ha freddizione in aria e vuoi tirare e definire il primo possibile, però su occasione che magari uno lo va a rivedere la prossima c'è più freddezza e definire meglio.